Rimane sempre alta la tensione contro il Bostrico, il parassita che ha attaccato i boschi altoatesini. Insieme alla tempesta del 2018, molto importante il tributo pagato in provincia di Bolzano. Il bosco da noi ha sempre avuto una grande importanza, abbiamo il 51% della superficie dell'Alto Adige e Bosco e abbiamo solo gli ultimi anni capito quanto grande era il danno. Prima c'era la tempesta Vaia, poi adesso il Bostrico, in totale abbiamo perso 18.000 ettari che sono il triplo di tutti i vitini che abbiamo in Alto Adige solo per capire anche la grandezza e pertanto solo con questi danni gli ultimi anni e con Valate dove effettivamente il danno del Bostrico era molto alto la gente ha avuto la sensazione ma cosa succede col bosco e pertanto con questo libretto vorremmo sensibilizzare molto di più i nostri altoatesini partendo proprio dai giovani, dalle famiglie. Per quanto riguarda l'anno 2024 siamo abbastanza contenti, se si può dire contenti, nel senso che abbiamo o possiamo constatare una riduzione per quanto riguarda la superficie forestale colpita dal Bostrico. Mentre nel 2022 abbiamo notato 6.000 ettari di superficie colpita, è stata ridotta poi a 4.000 nel 2023 e quest'anno abbiamo 2.100 ettari colpiti dal Bostrico. Allora la tendenza è sicuramente in modo di riduzione. Un progetto di informazione ad ampio raggio che vede anche la pubblicazione di un libro mira a sensibilizzare anche i più giovani. Il libro è stato fatto da una parte per sensibilizzare i bambini perché ovvio loro vedono i boschi, vedono che sono grigi, li spaventano e il libro vuole tranquillizzare i bambini però anche sensibilizzarli per il tema del Bostrico, del Bosco, di tutto.